ciao a tutti i farfallini bananini da esaurita pazza ciao 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 allora abbiamo fatto il bagno marra marace io holly ciao ciao giovanni poi abbiamo incontrato altri tiktoker esatto dimmi il nome per favore sonia sonia zack e alba e alba e la piccolina come si chiama chanelle chanelle che mi ricordavo più piccolina abbiamo fatto dei video ci siamo divertiti è stato per l'incontro come video che avevamo fatto vedere prima abbiamo incontrato loro adesso abbiamo finito a varazzi e da varazzi abbiamo pensato di fare un giro fare un salto a genova centro ma siccome abbiamo visto fiumara siamo andati a fiumara siamo andati al centro commerciale di fiumara questo qua sta parlando del ponte che è caduto è a genova generale è folettina paura e adesso siamo andati a fiumara giro qualche foto folettina ha fatto come al solito ma pochissime pochissime foto ha fatto poche 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 3 a 4 si si 3 a 4 basta stasera venite tutti numerosi al domani no no non direi perché ho detto questo questo qua se lo pubblico domani comunque comunque questo qui è un video che tra poco stacco e ci vediamo questa sera faccio pubblico ancora un altro video quando siano al mac con altri altri personaggi che avete già visto ciao a tutti ecco stavo dicendo stiamo tornando a casa comunque tipo di lavarci e poi andare a mangiare al mac ciao baci ciao a tutti i farfallini valeri dai saurita panza da polli da gabri lo giovanni può capire non si fa vedere diego diego detto anche marianna da quello che ho capito si chiama marianna marianna c'è tutto questo video ricordati che diego è marianna mi è venuto a scontare ciao a tutti allora ci stiamo mangiando il panino allora mi ha rubato il panino dov'è tu fai video che io mangio il tuo panino sto mangiando il mio panino guardi ridammelo no vabbè questo è il mio panino e ci metto il mio panino e ci metto il mio panino parlo con meglio non si vede però no lei non so di cosa ma si vede beh eccomi non lo so un chicche double chicken bbq come andiamo a dirlo? double chicken bbq bravo 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 è comunque si sta facendo la carne come la mangio io non ho fai l'unica non hai mangiato col pesce? no mariana non lo faccio col pesce mariana no perché il panino col pesce no mamma te prego i panini ci fanno col pollo con la carne e non col pesce lui ha già finito di pensare io vado andando a mangiare io ho preso coca cola pollettina acqua e a dieta e a dieta controllo zero pancia controllo zero controllo zero controllo zero noi siamo i normali facciamoglielo credere comunque i capri si sta mangiando tre panini più il mio si è mangiato sono di polli questi tre panini tre panini tre panini più il mio sì sì come no sono miei io mi sorpresavo lui ha preso la come si chiama questa cosa lungo cosa lungo lì come si chiama ha messo un wrap buono appena giungi tanto ha messo un wrap e che cosa è quell'altro cosa? ha mangiato le patatine e quello con il bacon sopra i nuggets hai da hai da hai da hai da hai da hai da troppo cagliere proprio comunque stiamo qui stiamo finendo di mangiare il vento tranquillamente vi salutiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 ciao